ciao a tutti ragazzi io sono meo svap e vi do il benvenuto sul canale oggi torniamo a parlare di pod mod ancora una volta per presentarvi la medo vedo che in collaborazione con casa golisi ha creato e ha partecipato la realizzazione di questa batteri per quanto riguarda la pod mod batteri da 500 mAh per un'erogazione totale di 11 watt la pod mod invece monta una cartuccia da 1.6 ohm adesso l'andiamo a vedere da vicino dopodiché prova di svapo e considerazioni finali allora andiamo a vedere subito la confezione della medo troviamo la parte frontale e la parte posteriore della confezione dove sono indicati il contenuto della confezione quindi la batteria da 500 mAh le due pod il cavetto usb le attenzioni e il marchio c'è abbiamo manuale di uso e manutenzione con le colorazioni della medo e poi da vicino vedremo la cartuccia cartuccia che è da 2 ml quindi la pod all'interno può contenere un massimo di 2 ml di liquido con una coil da 1.6 ohm che vedrete bene all'interno sigillo di garanzia remove before use e la batteri me do 500 mAh con un wattaggio di 11 watt in uscita a batteria carica le incisione made in china marchio c'è e batteri manufatted by golisi adesso andiamo inserire la nostra pod e vedrete che una volta che andrete a tirare si colorerà del led verde per quanto riguarda il refill vedete che è molto piccolo il foro della pod andiamo ad aprirlo e da qui vi servirà un flaconcino a punta fina 2 ml di liquido di capienza detto questo inseriamo il pod sulla batteri e l'andiamo a provare passiamo subito ai punti positivi di questa pod soprattutto in in prima linea c'è il packaging un packaging che soltanto in pochissime pod mod ho visto elegante completo ci sono due pod all'interno vi sono anche il cavetto usb certificati di garanzia e tutto per quello che abbiamo visto invece la pod ha il design e in alluminio le pod devo dire che funzionano bene per ciò che riguarda l'air flow è un altro punto positivo il secondo a mio parere perché ha un ottimo air flow è un tiro contrastato non è né troppo arioso né troppo chiuso per quello che riguarda la batteri il nome golisi sulla pod mod quando io leggo golisi per me io mi sarei aspettato qualcosa di più anche perché in un mondo dove abbiamo pod mod a non finire se non troviamo qualcosa di particolare e diverso nel mercato non andiamo avanti e ora che golisi presenti un prodotto del genere per me è stato un punto un po' strano e non a favore detto questo qual è il punto negativo sicuramente una batteria da 500mAh su una pod che mi eroga 11W mi sono sembrati un po' pochini soprattutto per la coil che monta la pod 11W mi sarei aspettato qualcosa come 13-14W magari una batteria da 650mAh sicuramente la pod avrebbe funzionato meglio per quello che riguarda invece il sistema di alimentazione quindi collegamento tra batteri e pod troviamo che il tiro se non è un tiro deciso la pod non alimenta e vi faccio vedere questo è un tiro normale guardate quindi è un tiro deciso mentre se io sto tirando perché sono magari in sovra pensiero la pod non alimenta quindi il sistema che c'è tra pod e batteri deve essere collegato a un tiro deciso un tiro forte perché se no non va e rischiamo di non tirare detto questo ragazzi la pod funziona bene non c'è nulla da dire sicuramente il prezzo è un punto a suo favore perché 18-19 dollari per una pod uno scatolo dove trovate due pod una batteria, cavetti usb e tutti gli accessori come manuale, certifica di garanzia eccetera per me è un ottimo prezzo ora io non mi sento di consigliarlo al 100% però quello che posso dirvi è sicuramente un prodotto che riesce ad arrivare a malapena alla sufficienza detto questo ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al canale se no non fate nulla di tutto questo ma commentate e fatemi sapere quello che ne pensate e ci vediamo con il prossimo video